benvenuti in questo nuovo episodio dell'arancione podcast oggi qua con me ospite o giulio delta ciao giulio ciao a tutti e grazie per avermi invitato è un piacere ottimo quindi oggi di cosa parleremo oggi andremo ad analizzare ripercorrere commentare dare un po le nostre opinioni su un episodio del bitcoin magazine podcast nothing is cheaper than proof of work con ospite paul sì sì anche anche io ho fatto fatica paul stork ho cercato su google traslater store ok paul stork paul stork per chi non sapesse bitcoiner incredibile lui ha un suo blog sito truth coin dove diciamo che ha promosso l'idea di drive chain ne ha parlato anche in uno speech dello scorso anno è sicuramente un membro super attivo della community ha fatto diversi panel in diverse conferenze giusto sì sì corretto corretto è stato anche al credo che era bitcoin mega l'evento organizzato bitcoin magazine 2021 dove parla di drive chain argomento anche molto interessante e attuale esatto 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 in questo episodio in particolare appunto si ripercorre un po quello che è il l'eterno dilemma l'eterna di atriba l'eterna solo in realtà per qualcuno perché per i bitcoiner non c'è assolutamente quasi nulla di dubbio sulla natura dei due oggetti della discussione ovvero la proof of work e la proof of stake quindi nella prima parte del podcast chiaramente dopo le presentazioni di rito si comincia a parlare appunto del funzionamento dell'una piuttosto che dell'altra ora per quelli di voi che ci stanno seguendo e non sapessero ancora di cosa stiamo parlando stiamo parlando dei protocolli di consenso di due tipi di blockchain diverse chiaramente quella di bitcoin ha un protocollo di tipo proof of work mentre altre blockchain come per esempio adesso quella di ethereum hanno invece un protocollo di tipo proof of stake questi due metodi la proof of work è quella che causa per i vari media generalisti la fine del mondo l'inquinamento della vita e lo scioglimento di ogni ghiaccio del freezer possibile quindi è quella che inquina tantissimo quella che fa sprecare un sacco di energia qualche tempo fa c'è stata proprio una super polemica portata avanti anche da greenpeace quindi change the code not the climate che ha portato poi ethereum ovviamente magari non è stato proprio quello che ha portato ethereum forse al generale mappa li è tutto molto confusionario fatto sta che ora ethereum dopo quella quella polemica lì è passata un protocollo di tipo proof of stake quindi sfruttando anche la narrativa green per ovviamente avvicinare qualche penso investitore qualche fondo qualche qualcuno essere diciamo un po più buono agli occhi della critica agli occhi del pubblico mainstream lo sei d'accordo giulio sì sì sono d'accordo purtroppo la narrativa diciamo proof of stake in realtà è vecchia ed è già stata scartata da bitcoin è nata come un tentativo di miglioramento del consenso di bitcoin ma ne sono state individuate subito diciamo le varie criticità che poi andremo a discutere più avanti e purtroppo infatti si vede anche quello stesso pol che all'inizio del podcast anche un po annoiato dice purtroppo ogni tanto questo tema ritorna alla ribalta io stesso ho fatto un articolo che si chiama nothing's cheap the proof of work che in realtà del 2015 dopo sette anni ne stiamo ancora a discutere quindi in realtà anche un po annoiata no quindi sono già stati fatti un po debunking su questi temi che in realtà su questo articolo è anche molto bello dove lui parla del fatto comunque che in realtà la proof of stake non è nient'altro che una obscured proof of work cioè nel senso è una proof of work nascosta tant'è che nell'articolo lui porta tutti diciamo motivazioni economiche nel quale dice niente è più economico della proof of work ma per il semplice fatto che la proof of work è trasparente quindi diciamo il lavoro il costo e per estrarre e fare questo lavoro è noto a tutti e quindi diciamo è facilmente intuibile mentre la proof of stake in realtà è molto più più subdola quindi spesso viene ripresa dal dal marketing delle shitcoin appunto per abbindolare un po i nuovi utenti purtroppo ultimamente anche con la narrativa green quindi che l'abbiamo vista in passato più volte diciamo attaccare bitcoin quindi la proof of work fa bollire gli oceani e così via ora è diciamo è venuta la ribalta anche per questo cambiamento di consenso suicida dal mio punto di vista nel tempo ce ne darà ragione di ethereum che è diventato un po un cavallo di troia diciamo un po un'arma dei regolamentatori per dire ho letto anche dei post stessi di vitalik dove dice andrebbero messe delle tasse sulla proof of work andrebbe regolamentata noi siamo proprio stake siamo belli siamo migliori siamo più green in realtà poi andremo a fare del banking dettagliato nell'episodio diciamo però è così si intravede anche la noia di boll nel riparlare purtroppo di questo argomento però oggi ne parliamo perché è giusto diciamo smantellarlo un po definitivamente poi non fa mai male insomma non fare sempre solo in massima listitostici ma a volte anche un po ecco scendere scendere diciamo nel merito delle questioni quindi dare un po di motivazioni ecco lo so che a volte è noioso però va fatto ecco assolutamente assolutamente completamente d'accordo appunto come dicevi te appunto giusto per riprendere un attimo lo stesso poll dice che nel 2010 addirittura la proof of stake su bitcoin fu scartata quindi pochi anni dopo diciamo la l'effettiva messa in moto di bitcoin era già stato appunto sperimentato messi sul tavolo un'ipotesi di questo tipo ma fu già allora scartata quindi esatto come dici te è una roba assolutamente vecchia quindi abbiamo già detto appunto dell'ambiente che è una merda e bene allora quindi parliamo entriamo un po più nel dettaglio un po più nel vivo proof of work proof of stake quindi proof of work per chi non lo sapesse ancora come funziona in modo molto semplice approssimativo quindi mi scuseranno i tecnici se magari commetterò imprecisioni o superficialità ma come funziona sostanzialmente che ci sono appunto questi i miner i nodi minatori quindi che hanno a disposizione una serie di hardware detti asic quindi gli asic sono appunto questi computer dedicati esclusivamente a compiere questo calcolo che serve alla proof of work quindi compiono tutto il giorno h24 7 giorni su 7 questo calcolo qual è lo scopo lo scopo è che il primo tra tutti i miner del mondo che riuscirà a risolvere questo calcolo avrà il diritto di aggiungere un blocco alla blockchain di bitcoin quindi guadagnando sia la block reward cioè attualmente 6,25 bitcoin che tutte le transaction fees quindi tutte le commissioni di ogni transazione contenuta all'interno del blocco questo ovviamente ha diversi pro proof of work è quella che tiene al sicuro il network infatti se prima era possibile minare bitcoin con il nostro computer da casa ora invece appunto vediamo vere e proprie mining farm da diversi centinaia di migliaia di dollari spesso e quindi c'è necessario tantissima potenza di calcolo quindi non è più sufficiente avere un computer casalingo o qualche scheda grafica in casa ma c'è bisogno appunto di questi hardware specializzati messi in serie che facciano che compiano questo calcolo continuamente continuativamente questo crea ovviamente sicurezza nel network perché per aggiungere un blocco diciamo malevolo oppure per compiere un reorg della blockchain sarà necessario avere una potenza di calcolo molto superiore di molto superiore alla media si infatti potenza di calcolo perché perché sostanzialmente il computer va a tentativi quindi è solo una questione di tentativi potrebbe benissimo farci dal tuo computer da casa con pochissima potenza di calcolo però la questione che ha molta meno probabilità facendo una sintesi in realtà il calcolo che fanno non è neanche troppo complesso in realtà il miner che hanno queste asics quindi questo hardware ben specifico che fa solo ed esattamente questo quindi non può avere altre funzionalità economiche cioè non è che posso rivenderlo per farci il montaggio video quindi è un asics un macchinario specifico che l'unica cosa che fa è tantissimi tentativi al secondo e il tentativo è esattamente quello di trovare un numeretto chiamato nonce che messo all'interno del blocco e mandato in una funzione magica che chiamiamo hash dia esattamente un numeretto più piccolo solamente che questo calcolo loro non possono saperlo a priori quindi devono fare tanti tentativi una volta che hanno trovato questo numero quindi in maniera diciamo totalmente casuale ma l'hanno trovato dopo aver fatto non so 6 minuti 10 minuti 15 minuti di tentativi lo pubblicano il network il network facilmente può riconoscerlo perché riprende lo stesso numeretto rifà l'operazione inversa la deve fare solo una volta in questo caso e quindi accetta la soluzione e va avanti nella nella chiusura del prossimo blocco quindi esattamente un io ho fatto una metafora tempo fa ed è un po tipo avere un arco con una freccia essere bendati non sapere dove sta il nostro obiettivo e iniziare a sparare frecce a caso e quindi l'unica cosa che possiamo fare è sparare tantissime frecce fino a quando non non centriamo l'obiettivo è un po quello che fanno i miner quindi fanno tantissimi tentativi al secondo e ovviamente perché questo viene chiamato proof of work perché ovviamente le macchine che stanno lì consumano energia quindi l'hardware ha un costo l'energia ha un costo e quindi questo diciamo fare tanti tentativi di fatto è una prova di lavoro poi facilmente verificabile perché una volta che è stato è stata trovata la soluzione in pochissimo tempo millesimi di secondo si si valida questo lavoro quindi sappiamo che statisticamente ci vogliono dieci minuti per chiedere un blocco quindi è stato fatto all'incirca dieci minuti di lavoro quindi è esattamente l'ho ridetta in maniera diversa così magari il pubblico che ci ascolta assorbe io stesso in primis quando quando ho conosciuto questo argomento ci ho messo sei mesi per capire esattamente nel dettaglio la proof of work quindi a volte risentirsi dire delle cose buone affinché uno le assorba e le faccia proprie quindi assolutamente sì ottimo guarda mi è piaciuto un sacco che hai fatto la correzione appunto che il calcolo non è complesso ma in realtà è molto semplice perché effettivamente anche dopo lo speech che ha fatto guy brush a lugano quello che deve passare che invece non vogliono far passare magari anche in mete generalistiche il calcolo in sé è molto fa molto molto semplice appunto non è complesso perché se magari leggiamo calcolo complesso ci aspettiamo ci aspettiamo ancora più complessità da bitcoin ci aspettiamo ancora più macchinosità quindi non trasparenza cose che non posso capire mentre invece anche già cambiando la narrativa sotto questi piccoli punti di vista quindi dando banalmente una declinazione non complessa al calcolo che dovevo fare i miner è assolutamente un pro che secondo me aiuta come detto te può aiutare tantissimo un nuovo entrato che si sta approcciando a questo argomento quindi ottimo veramente ottimo e anche la metafora che hai fatto dell'arco e delle frecce si funziona funziona perfettamente per far capire quindi davvero grazie per questo intervento grazie per questa correzione ottimo si fa capire un po il concetto fondamentale che diciamo è difficile da trovare ma il calcolo in sé non è difficile poi è facile anche da verificare perché tu vedi che la freccia ha accolto perfettamente in segno quando ti levi la bella e quindi diciamo hai trovato la soluzione quindi semplicemente un numero elevato di tentativi tutto qua esattamente esattamente quindi questa era la proof of work tiene al sicuro il network fornisce nuovi bitcoin quindi la grande domanda ma chi crea bitcoin li crea la proof of work quindi ma solo dopo aver fatto aver dato la prova di aver compiuto un lavoro quindi questo è il è anche uno diciamo dei valori sottesi di bitcoin quindi bitcoin traduce l'energia del mondo in valore quindi il valore del bitcoin secondo me è anche comunque dato dalla trasformazione dell'energia da energia di qualsiasi tipo quindi solare eolica comunque naturale per la maggior parte in valore quindi ottenere del del denaro del valore delle coin da una trasformazione di energia quindi secondo me questo è assolutamente incredibile e pazzesco prima di chiudere la proof of work volevo volevo aggiungere solo una cosa che è interessante cioè abbiamo detto un po come funziona proprio perché però in realtà e tu hai detto bene però vorrei rimarcarlo come come argomento che secondo me è interessante cioè a che cosa serve esattamente la proprio work la proprio work serve a due cose come hai detto tu uno ad distribuire la supply perché sappiamo che bitcoin non è stato preminato ed è stampato da nulla no quindi quando è nato bitcoin esistevano zero bitcoin è stato fatto il blocco genesi sono stati stampati i premi 50 bitcoin quindi diciamo ad accumulare a una prova di lavoro la distribuzione nel tempo della 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 curva di emissione dei bitcoin quindi come prima cosa è importante la proprio work che poi lo vedremo anche come paragonato con stake che è un grande limite è la distribuzione iniziali delle monete quindi fondamentalmente la proof of work regola nel tempo la supply di bitcoin fino ai 21 milioni a livello asintotico quindi che non riesgerà mai quindi questa è la prima cosa banale diciamo che potremmo dire che regola la quantità di bitcoin che ci sono sul mercato con un intervallo regolare perché la difficoltà si auto aggiusta finché il blocco sia di 10 euro questo è il primo il primo grande traguardo e innovazione di satoshi nakamoto la seconda grande cosa è che evita il double spending quindi diciamo faccio un'altra un'altra piccola parabola per farlo capire risolve il problema dei generali bizantini faccio alla siamo sette generali che dobbiamo attaccare un castello una fortezza vinciamo solamente se tutti e 7 attacchiamo questa fortezza però tra di noi ci può essere un attore malevolo ovvero che cosa può fare questo attore può raccontare due storie diverse cioè dire ad alcuni generali manda una lettera può dire sì attacchiamo ad altri generali ci no di aver tirata così facendo che cosa accadrebbe che una parte dei generali partirebbero all'attacco una parte andrebbero in ritirata e quindi diciamo sarebbe la sconfitta della guerra allora per far sì che assicurarsi che tutti questi attori si mettano in comune su una decisione quindi su una storia quindi su una versione del blocco che cosa si fa che a questa decisione si allega una prova di lavoro e si dice la decisione va presa entro dieci minuti però oltre ad scrivere si attacchiamo o no non attacchiamo dovete allegare una prova di lavoro in modo per cui se voi dite una versione io avrò la certezza che quella versione avete impegnato dieci minuti del vostro tempo di lavoro per scrivere quella versione così non avrete avuto altro tempo per lavorare su una seconda storia quindi questo qui garantisce un po il double spending cioè che attori di cui nessuno si fida dell'altro quindi un sistema concorrenziale possono accordarsi su un'unica versione dei fatti quindi si attacchiamo tutti e sette no non attacchiamo torniamo in ritirata quindi risolve il problema della doppia spesa ovvero del problema di poter raccontare due storie diverse in un sistema di appunto di noti concorrenti dove nessuno si deve fidare dell'altro ecco quindi diciamo risolve il problema dell'emissione ecco il perché è nata la proprio work e risolve il problema del double spending cruciale diciamo per la blockchain di bitcoin ottimo ottimo ottima precisazione ottimo approfondimento sicuramente aiuterà un sacco di persone che si stanno approcciando che appunto hanno sentito magari parlare di questo dilemma dei generali bizantini e non l'hanno mai approfondito grazie giulio che comunque ce l'hai ricordato ce l'hai rispiegato passiamo ora alla proof of stake che quindi è un altro metodo sostanzialmente di raggiungere lo stesso obiettivo che appena ha spiegato giulio quindi però in una modalità diversa quindi qui non c'è più una prova di lavoro quindi proof of work prova di lavoro proof of stake una prova di stake come si potrebbe tradurre stake di messa in gioco messa in gioco puntata diciamo hai una puntata una posta in gioco ok esattamente quindi cosa succede che qui se nella proof of work chi ha il diritto di scrivere il prossimo blocco e chi ha dato una prova di lavoro nella proof of stake questo è molto influenzato dalla quantità di coin messe appunto in stake da ogni singolo nodo validatore allora qui ci sarebbe da fare molte considerazioni molti potrebbero dire che non è così proporzionale non è così diretta la relazione tra più ai e più scrivi perché ci sono anche tante altre variabili come il fatto che un nodo possa essere sempre considerato online che abbia sempre fatto quindi la sua storia quindi che sia validatore da tanto tempo piuttosto che non abbia mai fatto validato cose errate o comunque altri tanti parametri si riduce però tutto al fatto che più hai la probabilità di scrivere un blocco allora si riduce tutto al fatto che la probabilità che hai di scrivere un blocco è correlata è proporzionale alla quantità di monete che tu hai messo in stake quindi per sintetizzarla al massimo ovviamente la proof of stake è un po' paragonabile vogliamo fare un esempio a una lotteria dove le persone che cosa fanno? hanno queste coin quindi queste monete native della blockchain le prendono e le bloccano in una scatola chiamiamola cassaforte quindi li bloccano questi coin e che cosa ottengono? ottengono dei biglietti di una lotteria quindi in base alla quantità di monete facciamo un esempio io blocco 100 monete ottengo 100 biglietti se i biglietti totali sono 1000 vuol dire che io avrò il 10% quindi 100 diviso 1000 è il 10% il 10% di essere estratto quindi avviene una estrazione pseudo casuale perché poi in realtà i numeri casuali della blockchain non esistono perché è tutto deterministico quindi ogni noto deve poter verificare le informazioni e quindi è proprio qui il fulcro problematico della proof of stake che l'estrazione non è casuale quindi è una estrazione non casuale a una lotteria e quindi già qui si intravedono delle crepe logiche anche nella definizione di proof of stake stessa no? diciamo perché viene sempre la ribalta questo argomento della proof of stake perché a primo attento può sembrare anche bello non si consuma elettricità wow fantastico invece prima avevamo un sacco di costo hardware inquiniamo con l'hardware elettricità partiamo dal presupposto che una cosa è uno spreco se non è utile però se è utile e funzionale alla nostra vita no? quindi partendo dal presupposto che in realtà la blockchain di bitcoin è molto utile quindi già questa narrativa che l'energia di mining è sprecata è totalmente fuorviante però perché viene la in realtà perché sembrerebbe non esserci non esserci appunto un costo in realtà come dice anche paul stork nell'introduzione dell'articolo dice proprio nothing is cheaper than proof of work perché perché lui fa un discorso prettamente economico dice il costo marginale di diciamo che è l'accaparrarsi il queste questa premio della lotteria no? perché sappiamo come diceva anche come dicevi anche prima tu ci abbiamo un grosso reward che è la nuova emissione di moneta e il raccoglimento delle fee delle transazioni che vengono bruse nel blocco quindi il nostro profitto derivata da questi due da questi due fattori quindi noi abbiamo un premio una vincita e ci abbiamo un costo nel caso del mining il costo è trasparente l'elettricità e dell'hardware invece nel caso della proof of stake non è trasparente perché noi abbiamo solo bloccato delle monete non stiamo bruciando nessuna risorsa però in realtà il costo è ogni singola azione o comportamento che potrebbe avvantaggiarmi rispetto agli altri ok quindi questo tentare un po di barare tra virgolette è un costo computazionale perché io un attacco che potrei fare è cambiare l'ordine delle transazioni affinché quel numero che estragli il biglietto vincente con maggiore probabilità scelga me piuttosto che un altro un altro diciamo validatore della chain quindi in realtà mentre nella proof of work la prova di lavoro è esplicita e registrata all'interno della chain nella proof of stake come dice dice l'articolo c'è un lavoro nascosto che è quello di arrangiare le monete in maniera tale per barare e favorire a me come estrazione come vincitore quindi in realtà non è che dice che la proof of stake è differente dalla proof of work è semplicemente una proof of work subdola nascosta cioè non esplicita tu non sai quanto lavoro è stato fatto dietro semplicemente per barare e cercare di accavarrarsi il jackpot del del blocco quindi questa è un po la anche un po il sumto del dell'articolo cioè la parte principale dell'argomento è che la proof of work non è che spreca risorse perché la proof of work consuma energia ma perché il blocco vale qualcosa quindi ci sarà sempre un incentivo economico tale per cui per investire ed ad accaparrarsi quel quel jackpot siccome sia nella proof of work nella proof of stake abbiamo un jackpot che è la reward più le fee in entrambi i casi ci sarà un lavoro per per accaparrarsi quella ricompensa quindi è proprio un discorso di incentivo economico questo è un po diciamo la l'articolo ecco in sintesi assolutamente super super corretto corretto quindi la proof of work relies on energy proof of stake relies on quantity on stake quindi la proof of work fa affidamento o si basa sull'energia mentre la proof of stake si basa sulla quantità in stake quindi c'è proprio anche a livello diciamo filosofico concettuale sono due cose totalmente differenti e secondo me chiaramente la proof of work sul livello anche filosofico ideologico superiore appunto come dicevo prima a me la cosa che si tramuta energia creando scarsità digitale è una cosa che mi manda ai matti proprio mi fa uscire di testa è fantastico sia uno zocchio di magico in realtà l'energia è un po l'unità di misura del lavoro quindi in realtà è semplicemente un sistema elegante e trasparente che esprime quello che che avviene nel suo sottostante per quello è così elegante e trasparente la proof of work perché si vede chiaramente dell'energia che viene consumata per produrre ecco un valore quindi è proprio un collegamento lineare cosa che appunto nella proof of stake in realtà avviene ma è molto più oscura assolutamente quindi abbiamo sintetizzato un attimo come funzionano questi due metodi di consenso e ora c'è una una metafora che paul fa che è assolutamente una delle più belle che abbia sentito quelle migliori per ora sono di safe ed in sinceramente però anche questa è molto bella diciamo quindi paul paragona la proof of work e la proof of stake a uno scenario diciamo di tv show quindi a un tv show nella proof of work quindi c'è il pubblico che guarda gli episodi del dello show in tv e se la qualità dello show è alta si può poi passare al prossimo episodio diciamo c'è un fattore esterno che è il pubblico che giudica la serie la serie televisiva tv show e quindi diciamo in un certo senso da una sua approvazione quindi è guidata dalla qualità quindi premia il lavoro che fanno in ogni show per far sì che questa qualità sia sempre maggiore no la qualità accumulativa della radio del tv show è maggiore quindi è facilmente riconoscibile diciamo anche all'esterno esatto e difficilmente invece fakeable quindi difficilmente invece falsificabile mentre nella proof of stake gli episodi non devono essere assolutamente di qualità ma sono low budget e nell'episodio stesso già si parla del prossimo quindi già si ha un rimando al prossimo episodio gli attori stessi del dell'episodio scelgono quale sarà l'episodio successivo quindi c'è una sorta di autoreferenzialità un po di auto voto quindi in ogni ogni diciamo ogni puntata si vede la votazione diciamo anche per per la qualità dell'episodio stesso quindi questo capisce che è autoreferenziale ti auto voti quindi il fattore che determina la qualità quindi l'effort che tu ci hai messo nel nella produzione della serie televisiva è autoreferenziale è fatto dall'interno esattamente quindi capite bene che anche penso quello che mi chiedo io è che anche agli occhi di un esterno che sente questa diciamo questo dilemma questa polemica da un punto di vista esterno cioè io mi chiedo percepisce l'enorme differenza sia a livello di fattibilità che a livello appunto proprio di idea che queste due protocolli hanno perché qui sembra palese c'è chiunque legga una cosa del genere chiunque abbia ascoltato questo podcast non può pensare che la proof of stake sia possa essere un'alternativa valida e quindi qui giungiamo al una specie di apologia della proof of stake ok che di cui io non sono assolutamente esperto ma giulio mi sembra che tu sia un po più sul pezzo sulla proof of stake giusto purtroppo si e spieghiamo anche il perché diciamo come come anche ha detto giacomo zucco se se non sei mai stato uno chic coiner non hai un cuore quindi diciamo chi di noi alla fine quando ha iniziato questo percorso no si è innamorato delle mille coin dal marketing e quindi una delle cose che diciamo all'epoca mi era mi mi ero innamorato era appassionato erano proprio un sostenitore della della proof of stake no poi l'ho studiato approfondito nel dettaglio anche appunto di vista tecnico e sono diventato uno dei più grandi critici quindi anche per quello diciamo mi giustifico un po nel conoscere la proof of stake quindi diciamo in realtà questo concetto anche del molto molto carino della metafora dove gli attori vengono giudicati dall'esterno invece gli attori si autogiudicano quindi una cosa esterna alla chain che determina qual è quella giusta e una cosa interna alla chain che determina cosa è giusto e cosa non è giusto è anche un po' una delle frasi in cui dice Satoshi Nakamoto in cui scriverà poco dice non c'è altro modo per un attore che si approccia alla blockchain di capire quale storia sia vera se non quella lì di fidarsi della catena più lunga ovvero la catena con più prova di lavoro cumulativa perché io non mi devo fidare di nessuno se invece sono gli attori stessi che si autoreferenziano io posso avere due storie completamente diverse e quindi devo fidarmi di uno quindi quando io sono un attore nuovo che apre il suo nodo inizia a scaricare la blockchain quello che faccio in realtà sotto le quinte che lo nascondono è che in realtà io mi connetto a un nodo scritto nelle config magari del nodo Ethereum quindi mi sto fidando che quella è la storia perché magari quella là è il nodo dell'Ethereum Foundation quindi di fatto è una cosa totalmente centralizzata dove io sto ponendo la mia fiducia in una terza parte e mi sto totalmente fidando che quella lì la storia di quelle transazioni è valida ma questo vale anche se io rimango offline per due o tre giorni rimango offline per due o tre giorni con il mio nodo quando il mio nodo si sincronizza c'ho un problema di diciamo di bootstrap quindi di scaricare le informazioni e poterle validare autonomamente senza fidarmi di terze parti perché perché sono le persone stesse che ti dicono fidati di me non è un qualcosa di fidati di un fattore esterno oggettivo dove tu puoi controllare e verificare in maniera indipendente quindi questa cosa è un po' quello che a livello tecnico viene chiamato nothing at stake che Paul stesso nell'episodio lo fa guardando al passato cioè lui dice io ho una blockchain però andiamo indietro nel tempo succedono strane dinamiche per dire siamo nel 2022 e andiamo nel 2020 nel 2020 c'era una chiave privata di un validatore che attualmente non ha più non ha più ethereum quindi oggi è a zero io posso andare da lui contattarlo e dire mi vendi la tua chiave privata tanto non hai più fondi su quella la posso pagare pochi centesimi 10 centesimi e utilizzare quella sua chiave privata nel mio arsenale per ricostruire la storia a partire dal 2020 quindi riscrivo totalmente una storia completamente diversa quindi due anni insomma di transazioni e tanta roba e quindi questo qui ci dà un problema che in realtà non c'è veramente nessuna posta in gioco perché sono gli attori stessi che si sono autoreferenziali questo vale sia per il passato ma anche per il futuro cioè se oggi avviene un forte della shame tipo ethereum classic o ethereum normale che poi in realtà l'ethereum normale è l'ethereum classic e quello l'ha modificato ethereum però lasciamo perdere questi piccoli dettagli non divaghiamo troppo cosa avviene che io in realtà se avviene un fork della chain ho le monete sia sulla chain A che sulla chain B quindi posso continuare a fare staking e portare avanti entrambi i fork contenziosi quindi porto avanti due storie diverse della catena quindi questo qui è disastroso invece come abbiamo visto anche per la block size war di bitcoin i miner di fatto poi dovranno scegliere quella che sarà la catena che per un discorso di incentivi economici vi conviene quindi dovranno portare avanti una sola versione di bitcoin quindi diciamo sotto diversi punti di vista Paul tratta la proof of stake nel video e man mano diciamo sviscerà un po' tutte le criticità diciamo che nella proof of work il prossimo blocco è instabile no? perché ovviamente molto raramente ma può avvenire un blocco orfano e quant'altro invece nella proof of stake l'intera catena è instabile fin dal blocco jersey cioè fin da quando tu sei passato al proof of stake volendo puoi riscrivere tutta la storia delle transazioni quindi è diciamo veramente una follia di sicurezza un po' penso anche che l'ethereum foundation ne sia anche consapevole di questo che in realtà ethereum stia un po' diventando un po' un cavallo di troia per le istituzioni per insomma per esploitare un po' il sistema cioè quindi un po' che si stia facendo abbia scelto un po' il lato scuro della forza ecco quindi in realtà non è poi così tanto ingenua la cosa ma in realtà sono in mala fede e consapevole di essere in mala fede questa è un po' complottistica però è la mia un po' percezione vorrei aggiungere anche una cosa su questo che diciamo che fin quando tutto funziona tutto molto bello la proof of stake però come ho detto ero un grande fan della proof of stake quindi ho provato in prima persona a fare staking per esempio con shitcoin come pivix come nemm insomma oggi ho cose sparite dalla terra però diciamo tutto fa esperienza anche gli errori ma quello che avviene è che questo mercato è ciclico come vediamo adesso siamo in una fase di bear market disperazione quando c'è la disperazione sul mercato se tu hai investito milioni in una delle asics quindi in una mining farm quell'hardware specifico ci può solo minare bitcoin non è che puoi prenderlo convertirlo in bitcoin con uno schiocco di didda e damparlo sul mercato e vendere cosa che invece avviene ok quando tu magari c'è una fase di mercato quindi tutti i nodi che hanno lì un sacco di coin bloccati prendono si sbloccano quindi il prezzo incredibilmente rasenta lo zero questa cosa in ethereum ancora non si vede ma per il semplice fatto che è uno schema ponzi cioè tu adesso puoi bloccare 32 ether per fare staking ma la follia è che non puoi ritirarli cioè quindi esattamente uno cioè fin quando non sbloccheranno la funzione di withdraw quando al prossimo bear market ci sarà la funzione di withdraw il castello di carta purtroppo penso che tanti si faranno male come io me ne sono fatto in passato quindi purtroppo spero che diciamo nel condividermi un po' anche la mia esperienza possa aiutare qualcuno ad aprire un po' gli occhi a insomma a imparare dagli errori altrui che poi è la cosa più più intelligente che si possa fare interessante anche poi nella nella puntata si parla del realtà del cioè quello che sostiene Paul fondamentalmente è che ogni sistema economico ha una proof of work non solo diciamo bitcoin o ethereum che anche se è nascosta ma anche il dollaro stesso di fatto ha una prova di lavoro e questa prova di lavoro è differente ma comunque è cospicua e anche molto più costosa a livello sociale che è quella dell'apparato militare degli Stati Uniti che comunque sono l'esercito più grande al mondo sono gli effetti distorsivi della Fed che ogni volta che c'è una grande euforia di mercato le banche fanno grandi profitti quando il mercato crolla le banche fanno grandi perdite ma c'è sempre c'è sempre il cuscino morbido della Fed che cosa fa che quando i profitti sono privati e se li prendono loro quando le perdite sono tante se li prendono tutti attraverso la tassazione perché poi le banche fanno sempre bail out quindi questo è il reale costo del dollaro quindi in realtà tutto ha un prezzo quindi sia il dollaro sia il mantenimento del sistema dollaro quindi questa è la proof of work del dollaro paragonata alla proof of work di bitcoin che è molto più diciamo pacifica e pulita sotto un certo punto di vista sì esatto senza contare poi che appunto come molti dicono il dollaro è sostanzialmente garantito dall'esercito americano e quindi diciamo che non è un a parte che l'esercito americano di per sé inquina probabilmente un sacco tantissimo poi a parte che è una merda e poi appunto come dicevi te sostanzialmente nulla è senza costi chiaramente anche il dollaro ha un costo sicuramente non riflette più il mero costo della sua stampa ma ha veramente appunto come hai detto te tanti altri costi diciamo nascosti che però appunto hanno un prezzo e non sono poi così neanche tanto nascosti perché la gente quando dici questa cosa dice vabbè ma tu sei un complontista ma in realtà è proprio nella definizione del dollaro perché il dollaro rientra nella moneta fiat fiat dal latino significa semplicemente imposto quindi in realtà loro se non ci fossero polizia che tu quando hai un punto vendita di un negozio ti obbligano ti perseguitano ad accettare euro e dollaro l'euro e il dollaro perderebbero di valore perché la gente si sposterebbe su monete su monete diverse no? su monete migliori e non per forza anche solo sul bitcoin ma anche l'oro monete semplicemente migliori che hanno un valore che sono più scarse quindi è proprio nella definizione di euro e dollaro stesso che impone l'obbligo di legge e quindi la violenza armata con cui vengono fatte applicare le leggi che sono la polizia i stati e così via quindi è proprio è così purtroppo è così esattamente storicamente abbiamo comunque visto che qualsiasi tentativo di creare un'alternativa monetaria è stato sostanzialmente stroncato violentemente sul nascere quindi ci sono stati diversi casi sia in America ma anche qui in Italia quindi qui in Italia possiamo ricordare appunto Auriti con il suo Cimec invece per tornare magari ai tentativi banalmente tramite una tecnologia digitale possiamo appunto ricordare il caso di Gold quindi anche quel tentativo lì è stato sostroncato sul nascere ma banalmente basta pensare a Paypal giusto? quindi ogni tentativo è sostanzialmente sistematicamente diciamo sì la pre-storia la pre-storia di Bitcoin è data tutta una serie di tentativi di realizzazione di monete private che però fino ad allora hanno avuto un esito infelice cioè le persone sono state o perseguite o uccise in base al periodo storico Liberty Dollar e Gold sono stati tutti i tentativi di creare una moneta libera e quindi non manipolabile non interferibile dallo Stato perché poi parliamoci chiaro Bitcoin nasce proprio con l'obiettivo di separare la moneta dallo Stato cioè piaccia o non piaccia in base alla propria idea politica però l'obiettivo primario di Bitcoin è questo e ogni volta che una persona era identificabile o un'entità era identificabile è stata attaccata dallo Stato stesso quindi il reale valore di Bitcoin non è tanto l'app Ufowork non è tanto i 21 mila è il fatto che è decentralizzato cioè il fatto che è realmente decentralizzato che non c'è un'entità dietro cioè queste cose sono tutti ingranaggi che il cui unico obiettivo è la decentralizzazione perché senza decentralizzazione non esisterebbe Bitcoin quindi sono tutti ingranaggi importanti che vanno capiti però bisogna capire che il cuore l'obiettivo il fine ultimo è la decentralizzazione se non ci fosse la decentralizzazione purtroppo Bitcoin avrebbe fatto la fine dei suoi predecessori e ce ne sono stati tantissimi quindi è proprio quello bisogna a volte non bisogna perdere di vista il reale valore dove è il reale valore non è nell'immutabilità della blockchain no non frega niente a nessuno il fatto che sia decentralizzata il fatto che sia decentralizzata ok sì non lo so perché l'immutabilità secondo me comunque gioca un ruolo assolutamente fondamentale anche perché comunque l'immutabilità 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 deriva dal fatto che è decentralizzata esatto esatto ma anche perché è realmente decentralizzata con tutti con tutti i grismi esatto esatto infatti stavo dicendo anche se appunto poi l'immutabilità è una conseguenza della decentralizzazione del protocollo però l'immutabilità in sé per esempio in una puntata precedente del podcast abbiamo visto come secondo Eric Yakes rappresenti una delle proprietà che un buon denaro una buona moneta deve avere quindi sì vabbè alla fine sì il concetto è lo stesso però sì l'immutabilità secondo me è proprio un diritto sì sì no no il concetto stiamo dicendo la stessa cosa perché se tu fai il caso estremo dove tu hai un server immutabile scritto su pietra cioè non so in un materiale indistruttibile ma comunque è confiscabile è censurabile quindi perché è individuabile no perché non è realmente decentralizzato e questo un po' logora il concetto di accessibilità quella immutabilità quindi è un diciamo un po' un po' la stessa cosa stiamo dicendo non è così tanto diversa però la decentralizzazione determina le caratteristiche di bitcoin quindi la search shop resistant la trust poi anche la blockchain stessa non è propriamente immutabile diciamo che è molto permanente perché nel breve periodo ci può stare un blocco orfano qualche reordio oppure nella storia di bitcoin c'è stata un po' per qualche bug tecnico quindi non è proprio una cosa che dici immutabile nel senso letterario del termine diciamo che nel lungo periodo è un qualcosa di molto molto più affidabile di tante di tante altre sistemi esatto invece poi adesso qua questa parte la taglierò e la appiccicherò indietro quando parlavamo ancora di proof of work proof of stake che volevo aggiungere una cosa ok quindi esattamente una delle critiche che anche possono venire fatte o dei parallelismi è quella che quindi tu una volta che metti in stake i tuoi ethere sostanzialmente la maggior parte delle persone la fa tramite binance piuttosto che coinbase quindi neanche mette in stake gli ethere sul proprio nodo ma quindi un ulteriore grado di centralizzazione perché li mette in stake presso dei nodi proprietari di altri che ovviamente gli danno magari più reward di quello che avrebbero se le mettessero come nodi propri no e molti fanno il parallelismo con le mining pool quando invece questo parallelismo non sussiste dal momento che comunque tu gli ethere li hai bloccati mentre la mining pool tu non sei bloccato o vincolato nessuna particolare mining pool ma con comunque tutti gli aggiornamenti che ci sono stati recentemente uno può decidere tranquillamente di staccare le proprie macchine da una mining pool e attaccarsi a un'altra in ogni momento quindi ad ogni volta ogni volta che vuole quindi non c'è nessun tipo di vincolo o di centralizzazione in bitcoin ognuno può decidere autonomamente sotto diciamo chi minare o di minare per conto suo quindi questo parallelismo non sussiste assolutamente sì no è totalmente errato anche a livello tecnico questo è proprio a parte il concetto di il concetto poi di mettere i propri coin in exchange centralizzati è l'orrore sull'orrore perché poi quello che di fatto avviene è che praticamente il governo con lo schiocco di dita può confiscare la maggioranza dei coin e quindi di fatto prende il controllo della chain in un click quindi in realtà quello è l'orrore sull'orrore però di fatto non tiene conto della natura umana cioè le persone purtroppo sono prigre e quindi l'abbiamo visto lasciano i fondi su FTX su Kraken su Coinbase perché comunque la maggioranza per quanto puoi fare informazione all'inizio sbaglia e quindi diciamo questo qui determina anche un grosso fattore di insicurezza per la rete cosa ben diversa dai miner che è totalmente diverso perché i miner di fatto devono cambiare un API cioè una stringhetta una riga e dicono io mi connetto alla mining pool A e la mining pool B quindi ci mettono veramente un secondo a cambiare a mining pool in caso questo diventa ostile ma alcuni protocolli di mining tipo stratum V2 in realtà la mining pool fa esattamente solamente la distribuzione del reward in maniera proporzionale cioè anche il blocco stesso quindi cosa includerci dentro non viene più deciso dalla mining pool quindi non ha proprio alcun potere ma viene diciamo chiuso dal miner stesso quindi con alcuni aggiornamenti del protocollo di mining in realtà la mining pool ha solamente il ruolo spieghiamolo brevemente perché i miners appoggiano alle mining pool quello lì di anticipare il reward quindi di anticipare noi siamo dei miner abbiamo dei costi operativi magari abbiamo una fabbrica dove abbiamo messo degli ASICs dentro statisticamente il nostro primo blocco che chiudiamo magari è previsto fra tre mesi però noi ogni mese paghiamo l'elettricità ogni mese abbiamo dei costi fissi quindi non vogliamo aspettare che ci incassiamo tutto fra tre mesi ma magari preferiamo avere in maniera continuativa in proporzione alla nostra potenza di calcolo ogni settimana ogni mese un reward per poter pagare le spese operative per quello i miners si aggregano cosicché diciamo se si aggregano in Napoli più grande statisticamente prenderanno il reward ogni settimana e questo vi consente di pagare le spese operative quindi le mining pool hanno esattamente solo questo scopo e con gli ultimi protocolli non possono neanche più decidere se o no quale transazione includere nel blocco quindi è un paragone totalmente totalmente forbiante totalmente forbiante esatto esattamente prima invece poi tu hai detto che la proof of stake non tiene conto della pegrezia umana oppure come tu stesso suggerivi ancora prima ne tiene conto e quindi c'è del dolo a sfruttare questa debolezza perché appunto poi il risultato di questa pegrezia è una centralizzazione assurda che forse può far comodo a qualcuno chiaro chiaro e questo non non smentisce manco gli occhiolini dai regolatori di Vitalik stesso un'altra cosa che Paul dice molto interessante riguardando la proof of stake dice vabbè ma metti che ci stiamo sbagliando che la proof of stake che la sta è perfetta quindi tutte queste problematiche che abbiamo discusso fino ad adesso sono state risolte come per magia anche se è impossibile anche per un discorso proprio economico del discorso costo marginale ricavo marginale che comunque ci sarà sempre una proof of work nascosta quindi facciamo una violenza mentale funziona tutto si crea anche il secondo Paul il paradosso per cui questo è un investimento perfetto dove tu blocchi dei fondi e man mano hai sempre un interesse cumulativo maggiore nel tempo quindi si crea un incentivo economico a bloccare sempre più fondi in questo sistema e in questo caso uno anche degli aspetti da punto di vista economico come costo nascosto è la mancanza di investimenti nell'economia reale perché comunque tu in bitcoin quando fai un investimento in mining compri comunque della mano d'opera specializzata compri delle asics energia elettrica che è mantenuta da operatori di centrale quindi comunque stai investendo nel mondo reale invece lì nella proof of stake anche se fosse tutto meraviglioso di fatto sta investendo in un sistema come una sorta di buco nero nel senso che attira sempre più fondi bloccati e quindi diciamo che in realtà poi sono fondi sì che sono bloccati questo non è un mondo idilliaco ideale però poi questo succede che il mondo idilliaco ideale non esiste e come avevo detto anche un po' prima in una fase di mercato non favorevole avviene uno tsunami fondamentalmente quei fondi si sbloccano insieme tutti in massa quindi quella finta deflazione creata dal bloccare il circolante quindi la moneta in staking di fatto poi viene sbloccata tutto insieme quindi anche questo lui è un discorso che accenna e non approfondisce che dice è un po' un discorso da economista super PhD quindi sono entrato poi in un loop mentale dice tanto comunque la proof of stake stessa ha delle problematiche che insomma sono evidenti e non risolvibili un altro punto interessante dice tu dici perché no allora se ne sente ancora parlare tanto beh ovviamente c'è anche un conflitto di interessi da chi te ne parla perché ovviamente il nodo staker che ha comprato 100.000 dollari di moneta visto il suo valore aumentare a un milione d'euro è normale che ti dica no non ti preoccupare la centralizzazione non è importante il nostro protocollo fa migliaia di transizione seconda perché ovviamente ha un conflitto di interessi no è un po' come se il papa stesso ti dica che Dio non esiste non lo farà mai ovviamente ha un certo conflitto di interessi nel poi può essere credente o meno però di fatto ha un conflitto di interessi nel dire nel portare avanti una determinata narrativa per questa anche un po' la narrativa shitcoin è di nuovo stessa è cambiata è cambiata nel tempo purtroppo una delle cose poi che vengono insomma un po' sottolineate è anche questo concetto che bitcoin è anche facile da spiegare perché è facile dire bitcoin ha una supply limitata sono 21 milioni non saranno mai di più mentre in ethereum dipende dalla fondazione quanti ne bruciano quanti ne mettono è variabile alcune monete hanno una supply infinita con costanza di crescita dell'x% e quindi questo già un po' allontana sicuramente come allontana le persone di buon senso ecco questo è un po' il recap della parte finale dove di fatto le gruppo stick si stanno dirigendo in una centralizzazione che sarà un po' la loro la loro morte esatto il tutto ovviamente magari nascosto dietro delle grandissime supercazzo le prematurate con scappellamento a sinistra che impediscono diciamo appunto come dicevete all'utente comune di avere una vaga idea di quel cazzo di cui si sta parlando alla fine molto bene molto bene quindi in questo episodio abbiamo ripercorso un po' appunto questa puntata del bitcoin magazine podcast abbiamo parlato di proof of work proof of stake non siamo chiaramente andati super nel dettaglio perché innanzitutto io non ho le competenze per parlare appunto di magari cose super tecniche questo podcast poi è destinato più che altro a quelli che si stanno approcciando quindi penso comunque di aver fatto un ottimo che abbiamo fatto un ottimo quadro generale della situazione andando comunque a dirimere numerose perplessità numerosi dubbi che diciamo avvolgono questo dilemma proof of work proof of stake io ringrazio Giulio per aver partecipato al podcast sei stato assolutamente un ospite prezioso hai fornito tantissimi spunti e riflessioni super importanti ed interessanti tra l'altro appunto mi segnerò la metafora dell'arco e delle frecce perché veramente mi è piaciuta tantissimo quindi per spiegarla me ne approprierò senza darti alcun tipo di copyright no non è vero no no va benissimo sarò benissimo non sono per i brevetti sulle idee quindi assolutamente assolutamente libera assolutamente libera grazie grazie per avermi ospitato è stato un piacere parlare di questi argomenti ottimo Giulio ovviamente lo potete raggiungere su twitter come Giulio Delta Giulio vuoi dare un attimo i tuoi contatti sì diciamo sono disponibile in tutti i social sul telegram Giulio Delta tutto attaccato su twitter uguale trovate anche un link in bio che vi fa vedere tutti i miei social quindi linkedin telegram e ora non mi vengono in mente tutti quanti diciamo noi portiamo avanti anche noi un canale diciamo di divulgazione gratuita su bitcoin che si chiama bitcoin detox sotto la mia sotto la mia bio anche su linkedin su twitter troverete troverete link quindi siete benvenuti ed è stato un piacere diciamo parliamo di di temi inerenti a bitcoin quindi diciamo è il nostro nostro main focus esatto fanno diverse live anche loro con diversi ospiti appunto io Giulio l'ho conosciuto proprio grazie a una di queste live seguitela andatevele riguardare perché sono disponibili su youtube mi sembra si si siamo disponibili in diverse piattaforme il principale è youtube abbiamo anche su spotify google podcast insomma tutte tutte le piattaforme video siamo veramente capitari guarda facebook linkedin telegram quindi se veramente cercate poi troverete il vostro media preferito come ascoltarci in comodità quindi cerchiamo di essere capitari ma anche per un discorso di sensor shift resistance insomma che se qualcosa va giù c'è sempre il backup dell'informazione c'è sempre il backup dell'informazione quindi per questo episodio era tutto se ti è piaciuto l'episodio ovviamente condividilo con i tuoi amici questo episodio puoi ascoltarlo su funtine che ti dà anche dei satoshi mentre ascolti il podcast quindi un metodo assolutamente incredibile di usare lightning network di guadagnare qualche satoshi o altrimenti se sei pigro e non vuoi scaricarti funtine è disponibile su spotify speaker qualsiasi cosa podcast o dove vuoi lascia una recensione positiva se ti è piaciuto noi ci vediamo ovviamente tra due venerdì e ti saluto e al prossimo episodio ciao a tutti avete ascoltato l'arancione podcast dove insieme a un nuovo ospite per ogni nuova puntata analizzeremo tradurremo e commenteremo alcuni tra i podcast esteri più famosi a tema bitcoin io sono Ale The Orange Way e noi ci sentiamo al prossimo episodio grazie a tutti